Con il bianco tuo candor Nel vento sai dar la gioia ad ogni cuore Ben trovati dalla chiesa cattedrale di Sant'Antonio di Padova in Cassino dove sta per avere inizio l'Epifania in musica, la sesta edizione. Si alterneranno in successione il coro di Sant'Antonio con il Cantico delle Creature dirige il maestro Pierino del Maestro all'organo Simona Grossi Il coro di Sant'Anna eseguirà Glorifichiamo il tuo nome dirigerà sempre il maestro Pierino del Maestro Il coro Giovanni Paolo II eseguirà Alza le braccia, apri il tuo cuore dirige il maestro Pierino del Maestro La banda Music Center De Cesare 1960 Città di Cervaro eseguirà il Late Snow Walzer Fantasy, direttore Guido De Cesare Il coro Ecclesia Teatre eseguirà Bianconatale dirige il maestro Michele Tagliaferri Le Cours de Dance di Laura Bungaro eseguirà La Porta del Cuore e solisti Sara Leone e Michele Tagliaferro E infine il coro Valeria Galliero celebra il Signore Terra Tutta Hard at the World dirige Susi Comparone all'organo Alessia Zinetti Buona Missione Buona Missione Buona смensi Grazie a tutti. 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 Buon Natale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.